Dove è venuto a conoscenza di questo test drive Audi? A Nettuno, mo' caffè. Sabato scorso? Sabato scorso, sì. Perfetto. Allora, la macchina non ha la chiave, si accende con il pulsante. Ci sono le luci, ci dovrebbe stare un pomellino lì per accendere le luci. Tutto digitale. Tutto digitale. È uno spettacolo. Questo è il freno a mano. Premendo il freno, si leva il freno a mano. Ok. Adesso sta caricando i dati della navigazione e ti dà la cartina della città. Poi premendo menu qui, più c'hai telefono, supporti dati, radio, Dolby Surround, vettura. Vai su vettura ti dice, stabilisci la data, puoi irrigidire le sospensioni, le puoi alleggerire. Guarda, suono, alti, bassi, effetti suono, adattamento al volume. È come il computer. Premi qua, ritorno indietro, supporto dati, telefono. Guarda che spettacolo il tridimensionale digitale. Non c'ha tutto digitale. perfetto, andiamo. Madonna, che frizione. Si stacca alla fine. Andiamo sullo stradone, quello lì, laterale, li togliamo indietro. Si sentono anche il rumore. No, questo è il diesel, eh. Questo è 2.000 diesel, 200 cavalli. 2.000 diesel, con 200 cavalli. 3.000 diesel, con 200 cavalli. Senti un po' lo secondo, con un'attacca. Questi. Se for sottotitoli, questo...